In questo periodo dell'anno le attività della Proloco Valdisangro si intensificano sensibilmente perché è proprio nei mesi di luglio e agosto che ci sono gli eventi più importanti. Cronologicamente parlando, il primo della serie è Sapore di Pesca, che al Parco Urbano Tratturo di Piazzano di Atessa partirà con la terza edizione a giorni. Esattamente il 20 e il 21 luglio sono le giornate dedicate a questo evento. Ad illustrarci nel dettaglio di che cosa si parlerà e si farà Erisa Tano, presidente della Proloco. Sì, partiremo con la terza edizione di Sapori di Pesca. Quest'anno anche il titolo è un po' cambiato, Sapori di Pesca e non solo, perché abbiamo un po' stravolto le manifestazioni precedenti, nel senso che all'interno di questo evento dove la regina della manifestazione è la Pesca, ci sono anche altri prodotti, prodotti locali come il vino, l'olio e tutto quello che è del nostro territorio. E veramente ci sono anche degli espositori di prodotti, di artigianato ed altro. Sicuramente dobbiamo ringraziare chi ha dato la possibilità a noi di realizzare questo evento, il sindaco in primis, poi gli assessori di riferimento e tutta l'amministrazione comunale. Le manifestazioni non si possono realizzare da soli, io lo dico sempre, ci vuole la collaborazione di tutti, dell'amministrazione, degli sponsor e poi dei cittadini tutti che partecipano e promuovono questi eventi che la Proloco durante l'anno e nel periodo estivo 2018 sta proponendo. Quindi colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che ho nominato precedentemente. Iniziamo venerdì 20, qui presso la sala dell'informa giovane di Piazzano, alle ore 20 ci sarà un convegno dove chiaramente si parlerà della pesca, la pesca di Piazzano, la cultura di questa pesca e soprattutto la valorizzazione. Inoltre vedremo anche il valore nutritivo di questo frutto, quindi il convegno può interessare tutti, non solo i produttori di pesche. Vi invito veramente a partecipare perché ci sono dei docenti di eccellenza, quindi esperti nel campo. E poi veniamo a sabato 21, sabato 21 si inizia alle 18 con l'apertura di questa fiera a mercato e all'interno di questa manifestazione abbiamo apportato anche delle novità, tra cui un'area attrezzata per i bambini, questo grazie all'assessore alle politiche sociali del Comune di Atessa che ha proposto tre serate dedicate ai bambini. In questa occasione, qui nello spazio, a distanza del Parco del Trattoro, sarà allestito un parco giochi con compiabili, animatori, giochi e poi anche artisti di strada che passeggeranno tra gli stand. Come dicevo, gli stand sono di natura enogastronomica e non. Poi abbiamo inserito due concorsi, un concorso di disegno realizzato dai bambini della terza e quarta elementare del nostro territorio. Abbiamo ben circa 120 disegni che saranno esposti qui di fronte all'Informa Giovani. Ci saranno le premiazioni, una commissione ha un po' valutato questi disegni. Sono bellissimi e hanno creato anche degli slogan e degli spot pubblicitari. Devo dire che siamo rimasti molto soddisfatti. Grazie alla dirigente scolastica del nostro territorio e a tutti gli insegnanti che si sono prodigati nel stimolare i bambini alla realizzazione di questi disegni. Quindi invito tutti i bambini a partecipare perché per ognuno ci sarà un attestato di partecipazione. Inoltre ci sarà la premiazione del concorso Il Dolce alla Pesca che è un'altra iniziativa nuova per questo evento. Ci sono state tante prenotazioni e in quella serata ci sarà la premiazione dei dolci più buoni, diciamo. Ci sarà un esperto che valuterà, non saremo noi coloro che abbiamo valutato sia i disegni che il dolce. Ci sarà la premiazione e a tutti i partecipanti sarà dato un piccolo omaggio. Non poteva mancare di aglietare la serata con uno spettacolo che è quello di un nostro noto personaggio locale che è Cristian Cappellone. Inizialmente proporrà la sua performance abituale e poi abbiamo pensato anche ai giovani. Quindi a seguire ci sarà il DJ Cristian Egino che li intratterà fino a notte inoltrata. Quindi non mi resta che invitarvi a partecipare e spero che tutte le attrattive di questo evento siano di vostro gradimento. Come si diceva inizialmente questi sono soltanto i primi eventi che organizzate nel periodo estivo e poi ovviamente ci sarà l'evento clou, quello di più lunga datazione, la festa del contadino che tutti conoscono e che quest'anno arriverà alla 37esima edizione. Sì, siamo alla 37esima edizione. La festa del contadino inizierà dal 2, poi sarà il 3, il 4 e il 5. Anche queste serate sono differenziate in modo tale che tutti possono partecipare e quindi soddisfare le esigenze di tutti. Iniziamo con la serata il 2 dedicata sempre ai bambini con un grande parco giochi a Piazza Ignazio Silone. Poi abbiamo la serata del 3 dedicato al ballo, all'esibizione di uno spettacolo della Virus Dance. Il sabato c'è la sagra tipica della festa del contadino e concludiamo la domenica 5 con lo spettacolo di teatro dialettale. Quest'anno verrà l'associazione Il Ponte di Lanciano che ha vinto tra l'altro il Drago d'Oro, questa rassegna di teatro dialettale organizzata ad Atessa. Quindi come tutti gli anni, anche per la festa del contadino, stiamo completando il calendario e ci saranno anche in questo evento delle novità che in seguito vi presenteremo.